Il grigio dell'indifferenziato, il marrone dell'organico, l'azzurro della carta, il giallo di plastica lattina, il verde del vetro. Cinque colori per cinque contenitori di raccolta differenziata, le cosiddette eco-isole intelligenti che in questo inverno si moltiplicano dalle sei presenti in centro storico a Pesaro dallo scorso anno alle 23 che verranno completate in questo mese di gennaio. Lunedì 22 di gennaio infatti comincia il conferimento attraverso le eco-isole informatizzate in tutto il centro storico, due settimane di coesistenza con la raccolta differenziata porta a porta e poi dal 5 febbraio soltanto il conferimento in queste eco-isole informatizzate che hanno dato finora risultati assolutamente confortanti. Le isole saranno 23 e si è ricorso alle isole per evitare l'abbandono dei sacchetti del porta a porta che a detta del comune era diventato troppo brutto dal punto di vista del decoro urbano per andare verso un sistema di raccolta che sia favorevole al cittadino che in qualsiasi ora della giornata può andare ed accedere all'isola ecologica informatizzata come quelle che si vedono nello sfondo dietro di me. Rispetto alle prime sei queste isole ecologiche hanno degli accorgimenti che faciliteranno l'accesso. Non sarà più necessario toccare con le mani lo sportellino, ci sarà un'apertura a pedale e sono state allargate i fori, gli sportelli per il conferimento del rifiuto in maniera che sia il sacchetto della plastica, quello più voluminoso e il cartone che spero venga comunque sempre ridotto perché altrimenti dovremo andarci più volte al giorno queste cose vengano fatte in continuazione sempre per un miglior decoro di Pesaro che come città della cultura 24 il decoro, l'attenzione, la pulizia sarà sempre ancora più maggiore degli anni appena passati. Con oggi ultimiamo l'installazione della sesta isola informatizzata, sesta di 17. Le installazioni verranno ultimate il giorno 18 di gennaio che sarà il primo giorno di consegna delle tessere presso la sede della circoscrizione centro Pesaro in via Gavardini. Le consegne delle tessere le faremo direttamente noi, saranno delle consegne subordinate alla presentazione della Tari, quindi dell'iscrizione, verranno consegnate dalle 10 del mattino alle 19, gli ultimi tre giorni della prossima settimana e i primi due giorni della successiva quindi 18, 19, 20, 22 e 23 gennaio. L'esperienza della sperimentazione cominciata lo scorso anno ha avuto una fisiologica fase di rodaggio che ci si aspetta anche in questo caso per poi entrare a regime con quello che è un sistema che dà benefici. Esatto, allora noi con la sperimentazione che abbiamo fatto nell'altra parte del centro, a parte qualche persona che era scettica nel primo momento però è andato tutto liscio abbiamo un operatore che gira tutti i giorni e comunque sta andando bene e abbiamo un riscontro positivo dalla gente e ci aspettiamo anche qua che comunque non sono 6, sono 23 isole, è un giro un po' più largo però ci aspettiamo comunque lo stesso riscontro perché sicuramente per la città è un miglioramento soprattutto dalla parte estetica e anche sicuramente nel fatto che ricicleremo di più anche come rifiuti.